Praticamente è un fusto in plastica, in PET. Questo è il fusto da cui si parte, che poi viene soffiato. Quindi si gonfia e raggiunge più o meno quelle dimensioni. Poi ci sono fusti da 10 e fusti da 20 litri. Vi vedete? Vedono rinaggi trasparenti, solo dovete pensare di vedere. Poi al favolo vediamo, sempre per la luce, perché anche la luce è un unico della vita. Quindi praticamente Casberg si è inventata con questi contenitori. Ve lo faccio passare. È plastica dura interamente, non ci sono altri materiali all'interno di questo fusto. Solitamente, non so se avete in mente come avviene la spiglatura da fusto in acciaio. Praticamente viene immessa della CO2 che permette alla birra di uscire. Invece attraverso questo sistema si elimina l'immissione di CO2 perché il fusto viene messo sotto pressione e praticamente si schiaccia, cioè lo spielato come un po' se fosse il tubetto del dentificio. Quindi all'interno di...